Va Ciaka Traorei con il destro, palla tagliata che spunta in era di rigore, il gol di Diego Sia, gol fondamentale in questo avvio che corona una partenza a razzo del Milan, ci ha pensato Diego Sia in mischia a piazzare il pallone sul secondo palo, Borussia sorpreso dall'avvio ovviamente del Milan che è un vantaggio. Palla che filtra in mezzo al campo dove c'è Ciaka Traorei al recupero, molto bene il Milan, ancora Ciaka che spinge, pallone dentro per Kevin Zeroli, il movimento di Kevin e il gol del 2-0, 2-0 Milan con Kevin Zeroli, gol del capitano che va a festeggiare con il nostro fotografo in trasferta. Palla perfetta nello spazio, secondo assist per Ciaka Traorei e qui Kevin Zeroli, ha baciato il palo, Borussia sorpreso, avanzata di Jimenez, c'è da quella parte Scotti, Jimenez arriva in area di rigore, dentro per Pippo, Pippo può andare al tiro, lo fa con la parata del portiere con i piedi, grande occasione Milan, minuto 65, con la sovrapposizione di Scotti su Jimenez, ancora Jimenez la riconquista palla, poi Victor, cross in mezzo per Sia, pallone sul secondo palo, resta lì per un attimo, recupera il Dortmund con il portiere, Milan molto pericoloso, recupera il Milan con Sala, prova a rilanciare l'azione, 4 contro 3, Milan che può andare in porta, Sala per Ciaka Traorei, area di rigore, la finta di Ciaka, il tiro e la parata del portiere, Lisevski salva il Dortmund, Milan che resta lì con Bonomi, andiamo per il Tris, Bonomi palla sul destro, calcia sul primo palo, la palla che esce di poco, al minuto 83, doppio, occasione Milan, sovrapposizione di Rashidi, si è visto poco in avanti, pochissimo il numero 2, qui crossa sul primo palo, Bartoccioni stavolta superato, proprio nel recupero al minuto 92, dal colpo di testa di Brunner. Grazie a tutti!